Formiche In un documentario ho sentito che non è vero che tutte le formiche lavorano sempre Sembra che in una colonia come questa ci sta una parte che non fa niente tutta la giornata Però poi gli scienziati stanno uscendo pazzi per cercare di capire quelle che non fanno niente a cosa servono Perché se non servissero proprio niente con l'evoluzione si sarebbero già estinte E voi spettano se foste formica quale categoria vi piacerebbe appartenere? Quelle che non fanno niente o quelle che lavorano? Rientriamo, la sigaretta è finita Rientriamo, la sigaretta è finita Ciao Ciao